Siamo sempre operativi, io personalmente come consigliere comunale ma tutto lo staff di Taranto Senza Ilva è in giro per la città per raccogliere segnalazioni. Ho al mio canto Adriano Orecchia che è il nostro segretario e coordinatore. Siamo stati proprio due giorni fa in via Dante per quella tragedia sfiorata dell'albero crollato, franato quasi ad angolo con via Cagliari e ci ritroviamo. Adriano ha avuto modo di raccogliere delle segnalazioni e lui stesso ci ha segnalato questa situazione di un albero in via Dante 400 all'interno delle palazzine di questo plesso, via Dante 400. Lo ripeto, un albero che da un momento all'altro potrebbe franare, potrebbe crollare, anzi sradicarsi meglio e quindi franare, crollare addosso a chissà chi, alle macchine, ai cittadini, chissà. Come le immagini testimoniano si sta proprio sollevando pericolosamente dal terreno. Sì, infatti questo albero qui come vediamo qui alle spalle è inclinato a meno anche di 45 gradi dal terreno e come si può vedere poi dalle immagini le radici escono anche da fuori dal terreno oltre ad aver un po' staccato l'asfalto che ricopre il marciapiede. Quindi già questi segni proprio si vede lì? Una radice che esce da fuori. Che fuoriesce quindi in buona sostanza si vede anche proprio l'ammasso di terra, di terreno sollevato. Già questo problema è stato segnalato alle autorità competenti, soltanto che nessuno è intervenuto. Pertanto noi siamo venuti qui grazie a una chiamata di una persona, di un mio conoscente e siamo venuti qui a intervenire per questo problema qui. Quindi ora ci auguriamo che si intervenga subito. Non è che dobbiamo tornare con le telecamere per raccontare l'ennesima tragedia. Però vedete questo ammasso di terra che si sta sollevando purtroppo prelude a uno sradicarsi e a un crollare da un momento all'altro. Se qualcuno non lo sapeva ora lo sa. Ma avvertiremo nuovamente le autorità, Adriano? Sì, vorrei ricordare anche che anche questo è Taranto. Anche qui è una via pubblica, non è soltanto via Dante all'esterno, la via principale. E anche qui via Dante. E pertanto non esistono cittadini serie A e serie B. La sicurezza è per tutti. Ci siamo spostati di appena pochi metri ed ecco un altro albero che si sta incurvando pericolosamente. Sì, infatti sta cadendo anche quest'altro albero, quello che ci troviamo alle spalle. È un altro albero che ha un tronco ancora più grosso dell'altro. È meno inclinato del precedente, però è pericoloso anche questo. Proprio la stazza del tronco che ci impensierisce di più. Sì, il problema è quello. Perché comunque sia, oltre ad una macchina, si potrebbe trovare una persona sotto quando la natura decide che deve cedere. Immaginiamo una possibile tragedia. Invece di scappare l'auto distrutta, ci scappa anche il morto. Ed allora le denunce sono state fatte, le inoltreremo nelle sedi competenti. Ora a voi le risposte, signori delle istituzioni.